Non bisogna avere paura di questi oggetti, sono i bambini stessi a comprenderlo prima di noi adulti. Questa rondella, per esempio, insieme ai bastoncini che vedete, diventano automaticamente per i bambini giochi, costruzioni, macchinine. Noi adulti spesso ne abbiamo paura, in particolare i genitori, ma i bambini no, i bambini sanno immediatamente cosa farne, ognuno con la propria fantasia.